Allora, Presidente di CNDB, Comitato Nazionale Docenti Vincolati, perché di questa manifestazione oggi? La manifestazione oggi, 15 ottobre, è stata organizzata per rivendicare quelli che erano i nostri diritti, che ci sono stati poi negati con una legge retroattiva successiva ai nostri bambi concursuali e al nostro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ci siamo riuniti, siamo qui da diverse regioni d'Italia, per cercare, almeno si spera, di abolire quello che è il vincolo ex quinquennale. E sappiamo che avete avuto un incontro al Ministero? Assolutamente sì, ci ha ricevuto la Vice Capo di Gabinetto Sabrina Capasso, da quale ci ha ribadito con estrema forza la sua disponibilità, la loro disponibilità anche, sembra quella dello stesso Ministro Blanchi, ci ha detto di riferire che c'è un'apertura per quanto riguarda quella che è la mobilità annuale, riporterà quelle che sono le nostre stanze e le nostre proposte al Capo di Gabinetto Luigi Fiorentino e a Stefano Versari. Mi raccomando di non mollare, ai vincolati chiedo di non mollare, di essere partecipi e di farcela. Grazie! 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 Grazie!